Ciao a Deus Video! Il concorrente di X-Factor 2018 di cui parliamo oggi è Alex Cliff. Chi è Alex Cliff? Alex Cliff è quel ragazzo che si è presentato sul palco di X-Factor 2018 alla prima serata delle audizioni con quella maschera d'alieno sul volto. Lui ha 19 anni, il suo nome vero è Christian Almasio e viene da Bodio Lomnago in provincia di Varese. Alle audizioni ha portato un rap inedito autobiografico chiamato Bambino che ha conquistato e commosso tutti i giudici. Quando gli hanno chiesto il perché si è presentato con la maschera lui ha spiegato che per lui indossarla è come entrare in un altro mondo quindi è una sorta di evasione da tutti quei problemi che affrontare ogni giorno. Le sue parole precise sono state Uno vede la maschera e subito pensa a un pagliaccio invece per me rappresenta il desiderio di andare su un altro mondo perché questo di mondo non mi ha dato tanto come tante persone ho avuto un'infanzia molto difficile ho 19 anni ma posso dire che vivo da soli 4 anni infatti poi ha spiegato che doveva scappare di casa tutte le sere perché c'era questo padre che beveva beveva troppo e quindi un sacco di problemi ma fin da piccolo lui ha sempre scritto frasi su un foglio e queste poi sono diventate rime, sono diventate i testi i testi in cui sono confluiti nella sua bellissima musica rap e praticamente lui sostiene che la musica l'ha salvato vi leggo un verso della sua canzone sono nato un giorno non so quanto tempo fa sotto un cielo fermo quasi fosse plastica con sta faccia da bambino come dici tu ma se guardi da vicino forse non lo vedi più tra le sue passioni oltre al rap c'è il calcio infatti lui tifa la Juventus lui dice ho ricevuto milioni di motivi per odiare eppure non lo faccio comunque scelgo di non farlo e non conta sempre da dove vieni la tua vita non è una conseguenza di quelle altrui è tua e basta ecco questo trovo molto giusto la canzone che ha portato Christian beh vabbè Alex chiamiamolo Alex col nome Dante è molto bella è veramente davvero davvero commovente e quindi in bocca al lupo anche te Alex Cliff e sicuramente è bello quest'anno perché ci sono anche dei bravissimi rapper ci sono tanti generi musicali ci sono già le audizioni e stanno già partecipando della gente davvero molto in gamba ciao a tutti a questo video